Il paziente sta bene, è in condizioni stabili, le lesioni stanno facendo il loro decorso, quindi dovranno seccarsi, cicatrizzarsi e poi il paziente non sarà più contagioso e potrà tornare alla sua vita regolare. Sta bene ed è ancora ricoverato in isolamento nel reperto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo, il 32enne a retino, risultato positivo al contagio da vaiolo delle scimmie. Per questo motivo era anche scattato il monitoraggio per due contatti. Al momento, per quanto riguarda la situazione qui a retina, sono rimasti solo questi due contatti in sorveglianza che poi al momento non hanno manifestato nessun sintomo. Intanto sono saliti a sei i casi di vaiolo delle scimmie confermati in Italia. Dopo il 32enne a retino sono stati scoperti altri due casi, uno sempre certificato dallo Spallanzani di Roma, l'altro in Lombardia e confermato dall'ospedale Sacco di Milano. I sintomi, che spesso si risolvono spontaneamente entro 14-21 giorni, sono analoghi a quelli del vaiolo classico, con febbre, dolore alla schiena, mal di testa, dolori muscolari e le tipiche lesioni cutanee. Nel vaiolo delle scimmie, in più, si è osservato l'ingrossamento dei linfonodi. La malattia si trasmette attraverso l'esposizione alle goccioline di saliva e di contatti stretti con lesioni cutanee infette o con lo scambio di liquidi corporei, come nei rapporti sessuali. Il rapporto di contatto stretto e diretto con persone che hanno l'infezione è un rischio molto elevato di contrarre il virus. Quindi bisogna fare attenzione, ovviamente, ai rapporti, soprattutto ai rapporti occasionali, casuali, che le persone non siano affette da queste forme. Grazie. Grazie. Grazie.